Non mi piace parlare di questioni extra a campo però posso dire comunque l'accordo c'è, manca solo la formalizzazione però la mia testa ora è rivolta solamente al campo alla partita di domani. Vorrei sapere da che cosa è scattato tra la stagione scorsa, l'estate un po' tribolata in cui si parlava di mercato e adesso che sei diventato uno dei migliori portieri del campionato. Era solo una questione di fiducia, di possibilità o c'è dell'altro? Grazie. Ti posso aiutare perché ora lo faccio giocare, prima che lo facevo giocare hai scattato questo. Ma sì, penso sia un insieme di fattori, non è scattato niente in particolare. Io ho sempre lavorato al massimo nell'allenamento per farmi trovare pronto, quest'anno sto trovando continuità ed è più facile poter dimostrare le mie qualità, quindi sono contento di questo inizio di stagione e spero di continuare così. C'è da fare complimenti anche a Kim perché si è subito calato in questa avventura al meglio, ha cercato di assimilare i concetti che il mister ci chiede, i movimenti della linea difensiva. Io cerco durante la partita comunque di richiamare la difesa come ho sempre fatto durante la partita e merito un po' di tutti, c'è il giocatore, del mister e del gruppo che comunque l'ha aiutato a inserirsi al meglio. Salvatore lo conosco comunque da diversi anni perché ho condiviso con lui la spogliatoia nazionale, è un grandissimo professionista e quando è arrivato comunque si è subito inserito bene nel gruppo e ha sempre cercato di dare il suo contributo, è una figura importante nello spogliatoio e quindi sono contento del suo arrivo perché comunque lo conoscevo già ed è un piacere poter lavorare con lui.